bello ragazzolati buoni notaci che sono nuovo idiozzo oggi sono tornato dopo tipo un mese perché siccome io ho 5 giga però rifinisco in tipo 3 giorni è perché mi piace youtube quindi è logico che se mi piace youtube sono sempre su youtube a vedere video oggi non ho connessione quindi faccio video oggi vi do solo delle spiegazioni praticamente oggi vi voglio spiegare perché che io do allora oggi vi devo dire che io ho postato un video youtube che c'è fatto il 17 novembre però io la posso la posso postare oggi quindi c'è ve l'ho detto infatti l'ho detto pure nel video io la posso postare tra un mese però il video finisce qua se il video vi sia piaciuto se il video non vi è piaciuto lasciate tanti dislike se il video vi è piaciuto lasciate tanti like ci rivediamo nel prossimo video bella ragazzi sto a mangiare